Allora, ultima tranche dedicata a queste situazioni pesanti, le abitazioni locate. Ecco, le abitazioni locate, questa è una novità, perché l'imposta, la tasi... Cioè date in affitto, sostanzialmente. Date in affitto, oppure anche non date in affitto, ma non abitate dallo stesso proprietario. Ecco, per questi casi l'imposta tasi, stiamo parlando della tasi, e anche qui cerchiamo di capire cosa è la tasi, è un addizionale IMU. Cioè rivestita con un altro nome, ma è un addizionale IMU, stesso calcolo, stessa rendita, uguale all'IMU, è un addizionale. Per i fabbricati non utilizzati dal diretto possessore, l'imposta viene travasata in parte anche sull'utilizzatore, e quindi questa è una novità. In che misura? Dal 10 al 30%. E anche qui dovremmo vedere le delibere dei comuni e vedere appunto cosa hanno stabilito i comuni. Faccio l'esempio di Venezia, Venezia ha stabilito il 10% a carico dell'utilizzatore e quindi il 90% è a carico del proprietario. Esatto, ma come fa a saperlo l'utilizzatore che percentuale deve pagare? Chi glielo dice? Questo è il regolamento, e quindi dovremmo attendere il regolamento. Esatto, ma questo gli viene comunicato con un bollettino? No, abbiamo detto che dovrebbe, ma di fatto non è così, quindi dovrà calcolare lui su cosa? Sulla rendita dell'immobile. Ora, a partire dal 2010, se non erro, tutti gli immobili registrati hanno l'obbligo di inserire le rendite catastali, quindi con tutti i dati. Per quelli prima, questo sarà un onere dell'utilizzatore, oppure del proprietario che comunica all'utilizzatore, i dati catastali su cui calcolare l'imposta. Da precisare che l'imposta che verrà pagata su questo immobile, oggi come oggi, non gode di agevolazione. Non c'è il discorso di prima casa, perché questa è un'imposta che si applica sull'immobile. E la quota che viene da pagata dall'inquilino e dal locatore non è altro che una ripartizione dell'imposta. Quindi l'immobile è già stato classificato come non abitazione principale, perché si fa sempre riferimento al proprietario, e quindi questo immobile che doveva pagare il 100% dell'imposta, per disposizione legislativa, una parte di questo, a seconda dei comuni, sarà 10, 20 e 30, viene pagata dal locatore. E quindi questo sarà un onere in più che avranno anche i conduttori. I conduttori che hanno l'onere di informarsi di questo? Hanno l'onere anche perché c'è ovviamente il contribuente e l'utilizzatore, cioè il contribuente intendo dire come proprietario e locatario, sono due distinti contribuenti. Quindi le obbligazioni sono autonome e distinte. Non sono solidali. Quindi per fortuna non sono solidali. Significa che se non lo paga l'inquilino, non è che il povero deve dire anche devo farmi carico, non se ne fa carico. Come lo stesso l'inquilino, non se ne fa carico se il proprietario non ha pagato la sua quota del 90, 70, 80%. Quindi attenzione perché anche chi è in un appartamento, in un affitto o in un negozio in affitto, la stessa cosa che sono ancora tanto più frequenti, o azienda, quant'altro, attenzione a questa percentuale perché è carico esclusivamente di chi è in affitto. L'altra parte se la prende invece come sempre il proprietario. Questo è tutto. Comunque per avere ulteriori raguagli, perché già mi immagino, ConfCommercio ha una mail. Abbiamo il nostro sito. Quindi a questo punto è meglio guardare il sito, poi chiedere informazioni con i contatti. Per trovare le sedi nostre su tutto il territorio. Esatto. Mancano pochi minuti, insomma 5-6 minuti. Possiamo parlare anche di cose più piacevoli. Sì. Sì, sì, sì. Perché questi sono degli input importantissimi. Però immagino lo stato d'animo, beh, ovvio, sentirli non fa assolutamente piacere. Sì, mi fa piacere presentare un'iniziativa. Allora, fortunatamente le associazioni di categoria ConfCommercio non solo aiutano le imprese ad affrontare queste problematiche che sono molto importanti, molto seri e molto gravi, ma anche aiutare l'impresa a nascere, a costruire, a svilupparsi, soprattutto anche le imprese che sono formate, che sono aperte da giovani. E c'è un'iniziativa che proprio ne ho costituito. Gruppo Giovani di ConfCommercio Unione Venezia farà il prossimo 4 giugno a Mira. L'iniziativa si chiama Sprizzando Idee ed è un momento veramente di convivialità, di stare un po' insieme, anche per conoscere tutte le opportunità che offre l'associazione di categoria, soprattutto per sviluppare un'impresa, sviluppare un'idea, per fare squadra insieme ad altre imprese, soprattutto di giovani, sono tutti quanti under 42 anni, quindi per conoscere quali sono appunto tutti quei servizi, ma anche tutte quelle proposte, quelle iniziative che vengono fatte sul territorio, perché appunto un'impresa si sente a casa sua e abbia voglia veramente di continuare il loro lavoro. Quindi l'appuntamento è per le ore 18.30 presso il locale Gossip di Mira. Aspettiamo tutti coloro che sono già imprenditori, ovviamente i nostri associati, ma soprattutto coloro che vogliono conoscere i loro coetanei dai 18 ai 42 anni. Quindi un momento di incontro, di confronto. E quindi anche conosce quali potrebbero essere le opportunità e le persone, con nome e cognome, che potrebbero aiutarli per sviluppare una loro idea imprenditoriale, oppure se hanno già un'impresa, perché no, conoscere gli altri. Start up, ma anche perché no, un'impresa che già c'è, che ha un'idea, ma che ha bisogno di un'altra impresa per svilupparla. Quindi creare il famoso sistema anche di reti, aggregati di imprese, che è importantissimo. Esattamente, tutto in un momento di scambio di idee, ma anche direi di amicizia, perché fare imprese in questo momento è molto importante, che sia accostato anche al sentirsi amici, al sentirsi vicini, perché come possiamo vedere i problemi sono spesso anche molto umani, quindi stare vicini è uno dei momenti importanti anche per affrontare le difficoltà, non solo quando si inizia, ma anche e soprattutto quando la propria impresa sta attraversando un momento di criticità. Chi riesce ad affrontarle meglio le difficoltà, il giovane o la persona di una certa età? Cioè l'esperienza o l'intraprendenza? Allora, questa è una bella domanda, perché ci sono dei giovani coraggiosi, così come ci sono dei capitani di lungo corso che sono un po' scoraggiati. Credo che unire, e noi ne abbiamo, capitani di lungo corso che tutto sommato sono ancora forti e giovani coraggiosi, ma non incoscienti, quando questi si incontrano possono essere utili gli uni agli altri e soprattutto a tutti coloro che stanno intorno per fare sistema. Quindi è un incontro anche intragenerazionale potrebbe essere? Potrebbe essere, sicuramente vedo in prospettiva proprio questo. I giovani sono molto motivati, hanno bisogno di orientamenti, di consigli, però hanno idee molto nuove, ma credo che anche, ripeto, i capitani di lungo corso forse hanno bisogno dei giovani per ridisegnare le rotte, le mappe che sono ovviamente al centro dei tempi e anche di esperienze che sono state fatte quando molte cose non c'erano e soprattutto non c'era la globalizzazione, non c'erano le sfide che ci sono adesso, anche semplicemente guardando al territorio locale. Infatti, l'occasione del 4 giugno sera è anche un'occasione, esatto, anche per incontrare la dirigenza? Ci sarà il nostro presidente Massimo Zanon, ci saranno ovviamente il presidente Elena Bordin, che è il presidente dei giovani imprenditori di Venezia e naturalmente tanti altri componenti della nostra associazione. E' aperto quindi per chiunque è aperto? E' aperto a tutti, in particolar modo ovviamente agli under 42. Ah, avete deciso, under 42. Sì, i giovani imprenditori sono anni 42, però insomma, naturalmente qualche associato di confcommercio che è al di sopra di 42 anni, ma figuriamoci se non accogliamo. Perfetto, un consiglio che si sente di dare con la sua esperienza, tanti anni di attività e alla luce di questa situazione? Di rivolgersi a personale qualificato, quindi noi abbiamo le nostre associazioni, rivolgetevi alle associazioni. Ecco, perché tante volte c'è la paura da parte di molti, ma mi conviene economicamente andare all'associazione, però, ma sono bravi, ma sono capaci, ma non è che... c'è sempre questo timore, si pensa che magari il professionista esterno possa essere, chissà, avere quella competenza maggiore rispetto all'associazione di categoria. È un falso mito, un vecchio mito. Io direi questo, tutto rispetto per i professionisti, perché tra i pari sono un professionista anch'io, quindi ci mancherebbe che... quindi io dico una cosa sola, che le mele marce ci sono dappertutto, non è che possiamo dire tutti sono bravi, però appunto quella è la minoranza. Direi che le associazioni di categoria, la nostra in particolare, perché ovviamente la conosco, la conosco bene, e i professionisti sono persone che non solo sono capaci, ma hanno anche la professionalità, hanno la competenza e non trascuriamo che sono anche assicurati per eventuali errori. Siccome nel nostro lavoro lavorare, bisogna mettere in conto che è facile sbagliare, perché chi non ha mai sbagliato, non dico scagli la prima pietra, ma sta dicendo una gran cretinata, perché sennò vuol dire che non ha fatto assolutamente nulla. Quindi siccome sbagliare è facile, specie in queste condizioni, io dico rivolgetevi a strutture che sono attrezzate, che hanno professionalità, che sono garantite, noi abbiamo tra parentesi anche CAF, quindi è garantito, super garantito, andate ovviamente anche dai professionisti, perché troverete competenza, serietà, e troverete anche tutte quelle assicurazioni che vi possono venire incontro, proprio anche monetariamente, nel caso vi fossero degli errori. Grazie, grazie del suo supporto, grazie anche a lui, a vice direttore, grazie a voi di averci seguita, e naturalmente noi ci troviamo presto per affrontare un altro capitolo insieme, e buon proseguimento.